Io sono Palma Vi aspetto a Cava dei Tirreni in via Antonio Gramsci, numero 6 Con il Covid-19 che avanza sulla spinta della terza ondata, l'Italia si prepara a vivere la seconda Pasqua blindata. Dopo il primo DPCM dell'era Draghi, entrato in vigore lo scorso 6 marzo, a partire dal 15 marzo e fino al 6 aprile, sono valide anche le misure più severe introdotte dal decreto legge approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Premier Mario Draghi e del Ministro della Salute Roberto Speranza, per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19. La nuova stretta metterà ancora a dura prova le attività economiche, già fortemente segnate dalle vicissitudini dell'emergenza sanitaria, che ormai va avanti da oltre un anno. In quest'ottica, l'assessore alle attività produttive di Cava dei Tirreni, Giovanni Del Vecchio, ha posto l'accento sulla fondamentale importanza di un decreto ristori. Poche le deroghe alle restrizioni che metteranno di nuovo a dura prova le attività economiche. Su questo punto voglio aprire una riflessione. Io nella mia qualità di assessore alle attività produttive mi sento di sollecitare il Governo centrale, già peraltro sollecitato da regioni, da enti locali, a immediatamente mettere mano a un decreto leggeri storie, perché vanno bene le misure restrittive, però occorre dare respiro all'economia. Non si può andare avanti così. Le tante attività produttive del nostro Paese, della Regione, della nostra città, sono in ginocchio. Quindi è ora di mettere mano anche ai ristori, ma che siano ristori veri. Non ci devono essere prese in giro. Occorre che le attività che sono penalizzate, fortemente penalizzate queste restrizioni, inizi a respirare per quella che sarà poi la ripresa futura. Grazie.